Non puoi mai sapere se qualcuno è positivo intorno a te Non puoi più recludere gli italiani senza darne anche un perché Senza mascherina sono uguale, però c'è la guarati non ce l'ha Giro di distanziale ma non puoi, però che gli italiani non sono tuoi Sì, chi sei? C-c-c-c-c-c-conte, le cure non sono pronte Vuoi che io rimanga nel mio letto senza andar da nord a sud? Non ti lamentare se domani non ti voteremo più Il dottor Burioni cosa fa? Dobbiamo isolare tutti gli altri Ora pure il test del DNA Test peraltro difficile e invasivo I tamponi sono la priorità Tornano pure i doc dall'ordine Ma che sei? C-c-c-c-conte, la quale è appena morte Ma l'economia come va? Quando andremo al mare non si sa Teatro, discoteca, alto lato Il turista proprio non verrà Buonasera a tutti Ieri abbiamo approvato il decreto legge Che ci consente di entrare a pieno regine della fase 18 E' sceso il numero dei guariti E' aumentato il numero dei malati Abbiamo inoltre potenziato il virus E' aumentato il numero dei malati E' aumentato il numero dei malati